Ecco Marta. Signore, 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 se tu fossi stato qui, mio fratello sarebbe ancora vivo, ma io so che qualunque cosa tu chiedi a Dio, Dio te la concederà, perché io so che tu sei il Cristo, che tu sei il figlio di Dio. Dove l'avete sepolto? Vieni e vedrai. Signore, signore, oh signore quanto pregato perché tu venissi, solo tu potevi salvare Lazzaro dalla morte. Aprite il sepolcro. Ma è già da tre giorni, il suo corpo sarà in decomposizione. Aprite il sepolcro. Capitare il sepolcro. Capitare il sepolcro. Capitare la mia mani. Capitare il sepolcro. Capitare il sepolcro. Grazie. Grazie. Padre... ...grazie per avermi ascoltato, Padre. Ora chi è intorno a me potrà vedere... ...che io sono la resurrezione e la vita. E chi avrà fede in me... ...vivrà in eterno. Lazzaro... ...vieni fuori. Lazzaro... ...vieni fuori. Oh, 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 oh... Cova via la啦! Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, 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 oh. Because of me... non morirà mai e vivrà in eterno.